Il nubifragio atteso in Liguria si abbatte sulla città di Genova. Dalle 22 circa forti piogge si sono abbattute sulla zona centrale e occidentale. Il nubifragio è arrivato dal mare e sta risalendo il capoluogo ligure verso l'entroterra genovese. Alle 2234 le maggiori quantità di precipitazioni si sono registrate a Castellaccio. E centro funzionale. Fulmini. Tuoni fulmini e una grande quantità d'acqua che ha causato allagamenti quasi ovunque scarsa. Visibilità per il conducente. In corso Carbonara è stato fatto saltare un tombino dalla pressione dell'acqua provocando l'allagamento della strada. Problemi anche in Contrada Lagaccio dove è crollata una parte del muro. Chiuso per allagamento il sottopasso di via Milanovia di Francia. Via Degola Piazza Montano. Vrin. Corso Torino. Chiuso anche il sottopasso di Staglieno. Chiuse anche le funicolari servizio sospeso a Sant'Anna. Zecca Righi.